Un toscano su tre ha già avuto la prima dose di vaccino. Il 33,5% dei toscani ha iniziato il ciclo di vaccinazioni e le somministrazioni fatte sono circa 1 milione e 870 mila. Il ciclo vaccinale in Toscana invece è stato completato dal 17% dei cittadini. La Toscana entra nella settimana clou dove la sanità regionale farà chiaverezza con i medici di famiglia e i farmacisti appunto per la somministrazione dei vaccini. Una campagna vaccinale che però va sempre più avanti anche grazie agli open day per gli over 60. Oggi a Prato ci saranno disponibili 100 dosi dalle ore 13 alle 20. Sono iniziate stamani alle 10 invece le vaccinazioni a Grassina per le 300 persone over 60 che potranno andare a vaccinarsi fino alle 20. A Montecatini invece ci si potrà vaccinare fino alle 20 e saranno 100 le dosi esattamente come a Sesa nell'Empolese dalle 16 alle 21. Intanto come scrive il quotidiano Repubblica l'eccedenza di vaccino AstraZeneca in quanto i prenotati per il vaccino anglo-svedese hanno poi scelto Pfizer o Moderna in fase di inoculazione potrebbe far scattare l'open day esattamente come si è visto fare nel Lazio o in Sicilia. Grazie. Grazie.